Qual è il tuo albero di Natale preferito? Quello classico, verde e pieno di lucine? O decorato con dolci e biscotti per i piccini? Candido come la neve al Polo Nord? O con un pizzico di modernità? Che sia ricco di meravigliosi regali o decorato da dolci sorprese? Natale è davvero Natale. Solo se come l'hai sempre sognato, quello che desideri per il tuo Natale lo trovi da Despar. Despar, il valore della scelta. Grazie.